chiuso il mercato gilmore al napoli con è alla roma salta perisic calciomercato uscite e nuovi acquisti dei top club italiani alla fine del periodo di trasferimenti nel calcio italiano ci sono state alcune sorprese la chiusura del calciomercato ha portato non solo volti nuovi nei club ma anche uscite dolorose per alcune squadre in particolare le società napoli e roma hanno comunque effettuato trasferimenti significativi mentre il trasferimento di ivan perisic non si è concretizzato alla fine particolare attenzione è stata rivolta all'ingaggio di billy gilmore che in precedenza era sotto contratto con il club di premier league chelsea gilmore ha firmato un contratto con il ssc napoli che fa guardare sia il club che il giocatore al futuro con ottimismo i dirigenti del napoli hanno espresso la loro soddisfazione per l'accordo sottolineando però che gilmore dovrà assumere un ruolo chiave nella difesa e a centrocampo pertanto è previsto come giocatore fondamentale per il prosieguo della stagione un altro emozionante trasferimento è quello di assane con è all'as roma l'attaccante talentuoso che nella scorsa stagione si era messo in evidenza con buone prestazioni andrà ora a rinforzare il reparto offensivo dei romani la decisione di puntare su con è è stata presa in base al desiderio dell'allenatore di portare nuova linfa nella squadra molti tifosi sono ottimisti sul fatto che il giocatore possa rivestire un ruolo importante nelle imminenti sfide della serie a di autorità della roma hanno definito il trasferimento come un passo nella giusta direzione per sostenere le ambizioni del club. Un altro trasferimento che ha suscitato scalpore è stato il trasferimento programmato di Ivan Perisic. Questi avrebbe potuto arricchire il mercato italiano con la sua esperienza ma i negoziati sono falliti. Die gründe für das scheitern des transfers wurden nicht dettagliate tematisiert, doch die clubs äußerten, dass es an der zeitlichen Umsetzung scheiterte. Fans und Experten zeigten sich enttäuscht, dass eine solche Verpflichtung nicht zustande kam, da Perisic eine wertvolle Ergänzung für jedes Team gewesen wäre. Die Schließung des Transfermarktes in diesem Jahr hat gezeigt, wie dynamisch und unvorhersehbar die Transferperioden im internationalen Fußball sind. Die verschiedenen Entscheidungen der Management Teams beeinflussen nicht nur die Vereinsstrukturen, sondern auch die Emotionen der Fans. Questa settimana le piattaforme che hanno seguito Calciomercato Live sono state piene di speculazioni e voci sui potenziali trasferimenti. E mentre la lista finale dei trasferimenti è ora definitiva, rimane interessante vedere come questi giocatori si adatteranno nei loro nuovi ambienti. Con la chiusura del mercato, quindi, la Liga italiana ha fatto un ulteriore passo verso competizioni emozionanti e imprevedibili, in cui vecchie rivalità vengono riaccese. Indipendentemente dai riassetti, resta da vedere come i nuovi giocatori si integrieranno nelle loro squadre e quali effetti avrà questo sulle prestazioni dei club. Die letzten Tage des Calciomercato haben uns sicherlich einige interessante Entwicklungen beschert, wobei einige Teams offensichtlich strategisch sinnvoll reagierten, während andere mit der Zeit nicht Schritt halten konnten. Gerade die letzten Ultime Calciomercato Updates zeigen, dass die italienische Liga weiterhin ein heißer Boden für Talente und spannende Unterschriften bleibt. Autor Anita Facke, Samstag 31, August 24. Gli ultimi giorni del Calciomercato ci hanno sicuramente regalato alcuni sviluppi interessanti, con alcune squadre che hanno reagito in modo strategico, mentre altre non sono riuscite a tenere il passo con il tempo. Proprio gli ultimi aggiornamenti Ultime Calciomercato mostrano che la Lega Italiana continua a essere un terreno fertile per talenti e firme entusiasmanti. Autore Anita Facke, sabato 31 agosto 24.